cosa piglio il ladro, il ladro è il mio lavoro avete presente no la clip su che merda sta roba zio prendo craga che sbocco avete presente la clip su instagram di quella la che intervistano quella la tipo farla la del mio lavoro ma davvero no ragazzi questo è una robbery hanno cambiato le carte la carta di nanni diventa subisce un'autodistruzione esplosione perishongo destiny bond in qualsiasi momento è la mia evolvi univi zio cioè ma scherzano è che è 30 volte più hard questa è una robbery qua faccio il nannigate qua faccio il nannigate qua faccio il nannigate zio cioè la carta di leo diventa trovo un pokemon femmina con sweet kiss più charm attract ma vecchio ma sono 30 volte più facili della mia questa è una robbery totale zio assurda sta roba vaffanculo rimpe no questa è una scam palese bro è una roba che è 30 volte più hard la mia però sorvolo bro sorvolo sorvolo dovreste mettermi evolvi un pokemon se vogliamo cioè se vogliamo fare una roba di fi dovrebbe essere evolvi un pokemon che l'avrei già fatta oltretutto questo è uno scam disumano zio disumano peggio della robbery che ho preso poco fa su battlegrounds guarda il pokemon femmina non è più facile ti garantisco che è 30 volte più facile che evolvere univi bro scherzi cioè farvi se lo dici realmente che non è più facile non hai idea è 30 volte più facile 30 volte più facile brother questo qua è peggio del corano porco dio sto commento proprio non posso risponderti però non sono non ho il qui per risponderti sargon imbarassing piglio loro due qua non è male questo no il corano io ce l'ho eh ce l'ho di là il corano l'ho comprato su amazon tempo fa il corano non sto scherzando adesso vado a vedere dove l'ho messo arrivo eh sì però era in sconto il corano era in sconto il corano e l'ho comprato lo volevo leggere in stream un giorno zio però non so che idea sia potrebbe essere un po' problematico con certe battute di di alcuni utenti in chat diciamo ho letto un pezzo un pezzo sì un pezzo sì allora sono una persona di cultura zio mica mica sono poli scherzi eh lo piglio lui secondo me questo si può provare a pigliare questo è ottimo molto bene cosa piglio qua rega è meglio lui o è meglio il town perché ci dà una jm in più forse lui comunque sì ci sta è ok sta roba non esagerate in chat rispetto per a parte che conosco varie persone musulmane mi stanno simpatiche mi dovesse avvicinare a una religione a parte che mi di mi avvicinerei penso più al ai muslims che cristiani chiaramente non è meglio ma fare il town in che senso ah no ok dico lui no non penso non penso eh cosa voglio pigliare questo direi easy questo easy bro tier up chill e questo dove lo diamo rega qua no sì che pale beccarsi d'ora ora che c'è il minion dorato però noi siamo strong qua su bordo vediamo non lo so io la religione la vedo come una roba che io la religione la vedo a parte gli scherzi la religione la vedo come un qualcosa in cui credi per viverti meglio la vita no cioè magari anche quando arrivi una persona che si vive una vita sana e tutto arriva ad essere vecchio così è più propenso a credere in qualcosa no perché si vive meglio la vita no pensando che ci sia un dopo però se devo essere oggettivo zio boh non lo so voi come la vedete ma flaco non no eh non lo so farmi cremare o meno boh mio nonno per dire si è fatto cremare si è fatto un terra e cenere nel bosco dove andava a caccia sempre cremare solo se sei proprio un posto che è tipo iconico della tua vita magari lasciare il cenere lì però boh non so micchia che c'è possiamo parlare anche di roba più felice forse raga non lo so lo prendi in secondo di questo qua non è male anche lui eh potremmo prendere sia coppia di lui che questo capo e rollare uno questo quanti gol mi dà uno solo questo è buono perché si buffa anche questo che da taunt non è male però eh questo è buono buon rega rolliamo vediamo c'è mi serve una tripla qui mamma mia oh mamma sei forte sta roba zio ho riuscito fortissima sta roba sei oro merda sei forte sta roba orco dio è gigas grava sta roba zio come la prenderò ora con iro power è troppo forte averla un turno prima sta roba zio boh holdo lui in mano no holdo lui in mano ora ci sta il taunt giver qua questo è sgrava mi servirebbe il battle cry che potenzia l'altra roba delle gemme allora io ho avuto un'istruzione prettamente si ho visto come è morto lo snorlax di creepy schiacchere tutto la roma potesse vincere la ropa league c'è stato scaquittato il gruppo e insultato a morte tutti dopo che la roma era abbastanza trigger ed è romano effettivamente o comunque non si è ammessi male però merda guarda qui come perde il fight probabilmente dai buono se gli dava uno con detratto lo rosicavo l'ho frizzato no? l'ho frizzato zio non l'ho preso ho frizzato e non l'ho preso sono incoglione merda ragazzi sono marcissimo sono marcissimo no non sto più dormendo non sto più dormendo perché guardo troppo la gente a giocare la pill non sto più dormendo perché guardo troppo la gente a giocare la pill no veramente è pazzesco porco dio questo è grave vecchio questo è grave succede anche a me questo è grave porca trova minchia questo è grave godo però triplato rewarded godo merda guarda qui che culo porco dio guarda qui che culo porco dio godo bro fucking deserved bro bro deserved sta roba deserved deserved a dare attacco a lui bro a dare attacco a lui è good perché tanta divine shield forse una qua c'è stato too good no comunque qual è il discorso flaco lascia ma nel senso non è che se uno ha un credo diverso dal tuo allora è sbagliato flaco secondo me uno è libero uno è libero di avere l'idea che alcuni possono credere semplicemente per avere incontro diablo spero che non mi tolga il divine shield spero che non mi tolga il divine shield cheat minchia però quanto è goloso se il 12-14 mi valso il 26 oh mamma bellissima questa eh però muoio qui perdi il fight buono che mi dia i premi prendo l'ultimo non prendo una gemma ma vabbè 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 ok flaco no no quello ci sta allora che la intendi così no pensavo fossi capito contro quella quell'ideologia lì no no beh ci sta assolutamente quello che è scritto ora cosa facciamo qui facciamo saltare un taunt devo livellare devo livellare devo livellare un uovo contro di lui minchia questo è fortissimo zio rinascita qua minchia se è forte rinascita lì questo è forte saltare un taunt cioè guarda qui che roba che fa è giga sgrava sta roba merda questo è huge questo è quello che ci serve particolarmente buffo i pezzi che tengo giù skippalo di nuovo ma non era quello che avevo skippato è il 2.6 che dava taunt bro dovremmo fare come gli antichi i romani minchia che argomenti seri oggi comunque ragazzi ci siamo proprio maturi siamo la chat secondo me con cui più alto di twitch incredibile è incredibile da pensare incredibile da pensare anche perchè ormai sulla pilce hanno steccato tutti sta season merda godo infinito che è morto il pezzo qua peccato che non sia morto il rebore perchè avremo merda ogni gemma da più 7 più 1 immagina se trovo bran qua se trovo bran qua è molto buono perchè con quello che abbiamo in taverna dopo le gemma dan più 3 salute capiamo non so se venderlo no lui lo tengo vendo lui oddio questo è da tenere dar taunt alla bordo are you fucking joking bro va bene va bene va bene ma cos'è meglio prendere il taxi 3 o taunt secondo me è il taunt qua forse sapete il tipo che da taunt è meglio del 6-3 qua tanto ho già da più 7 più 3 questa perchè taunt mi da due gemme mi da una gemma bro perchè due però è buona una gemma tanto devo dar taunt alla bordo io prima o poi quindi ah no due gemme vero si si due gemme due gemme perchè tu dici si si certo mi da due gemme mi da due gemme perchè dici muore anche lui ok il problema della build che abbiamo godo che non è andato sul divine shield merda questa è grave buono buono buona 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 state godo godo mi sa che perdiamo il fight cosa ne pensi del fatto che ma raga chi se ne fotte di cosa sa o non sa la gente su pokemon ci dobbiamo divertire ci stiamo divertendo tutti basta perchè dovete sempre rompere questo sa di più sa di meno su pokemon dell'altro porco dio ma lasciate divertire la gente senza rompere il cazzo a parte che secondo me te sei uno di quei nickname che prova a mettere zizzania tra gli streamer perchè non è la prima volta che ti leggo partendo da questo presupposto sei uno di quei maranza che prova a mettere zizzania tra gli streamer e dire robe e soprattutto chi se ne fotte di chissà di più o chissà di meno bro penso che non frighi a nessuno ci stiamo divertendo tutti come dei matti e delle uniche cose che conta e comunque te sei uno di quei maranza che scrive le che prova a far flammare che fa la carogna perchè me li ricordi nickname quindi evita evita non ho messo secondo però lì però che che sfiga cioè veramente che sfiga bro ma si può questa cosa è vergognoso ma ti rendi conto embarrassing staff capo vado l'elimino comunque ma non è assolutamente vero ti pare una ma perchè devo leggere certe cose è una competizione fatta per divertirsi zio e sdrumox non sta per nulla facendo male in realtà cosa stai dicendo bro poi starai trollando però non farla carogna non farla carogna in chat fa il bravo ma se non sei tu ma se non sei tu morto cosa non lo so neanche se usarla contro di lui perchè tecnicamente demoni non dovrebbe soffrire sta roga pazzesco questo pazzesco questo non 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 Vabbè vabbè ma avanti 4 minuti così ma è clamorosa È clamoroso questo è veramente clamoroso È veramente clamoroso zio Non devo morire da questo Bassano sei tu? Vado a rispondere solo la ragazza e la ragazza Bassano sei tu? A capo Pazzesco 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 quel video lì Pazzesco Ecco l'osso del sole non è male Da baffare Come salta il branno Di Roy ci sta a giocarlo Ok Mi sarei andato in prigione Ok molto bene Molto molto bene qua Settiamoli ero Va bene Non sarei neanche serve Ma questo qua come fa a essere vivo bro C'è la borde di zio paperino Sto tipo Non so Buono Molto bene Molto bene Molto bene Il fatto che prendi alle gemme Merda Ogni gemma da più 15 Più 3 zio Ancora non abbiamo parlato In live Cassa di quello Top 3 Fight me Fight me Amo di bleu Prendibile lui Però Carini I 3-3 Sono carini Vorrei 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 assolutamente Triplare Questo Eh rega il punto di taunt è che non ho spazio per giocarlo Cioè non voglio vendere nulla ora E non è che mi serva così tanto in realtà giocare il taunt ora Ci poteva stare I gettoni in ultimo A parte che ci dovrebbero essere 6 gettoni Non so se già ci sono in app i 6 gettoni Però boh A capire sta roba Venga 71 di Lost Questa è enorme Bassano sei tu? Cioè È enorme sto tipo zio Che è sta roba? Anche le nostre gemme sono enormi però Madonna Non ci elimina però spero Siamo vivi Il colosso overrated Eh bro 5 sarebbe sgravissimo zio Il colosso a 5 Il colosso a 5 Sarebbe pretty good È troppo forte il colosso a 5 secondo me Questo non è così buono Questo non è terribile Ti dico Mica questo non è terribile zio se lo buffo infinito Questo lo piglio Servirebbe un taunt giver qua Secondo me salta di eroi Eh non lo so però Perché l'eroe shotta un pezzo zio Salta lui forse Però taunt Il discorso è quello Che questo è taunt No colosso rega Non posso farlo saltare È un cazzo di 104 di Vineshield Bro è fortissimo Questo fa schifo dai Molto bene What I was looking for Questo diventa enorme Cioè lo facciamo enorme In pochi turni Boh Cioè se muoio qua È assurdo bro Cioè sono grossissimo Cristo Però anche lui Sarà giga grosso Ok Molto bene Eh qua il cleave fa Guarda qua il cleave Quanto cazzo sarà forte Zio Qua il cleave spinge Qua il cleave spinge Zio Puttana se spinge il cleave Cleave fortissimo qua Molto bene Buona ridi il cleave Buona ridi il cleave È fortissimo qua Stasera tivi Fiorentina Contro chi è? Beh sì Tivo Fiorentina Italiano Ci sta Però non è che mi cambi qualcosa Se vince e perde Ah comunque sei il nuovo Aquenzo Ci immagino Sì ci sta Se tu sei il nuovo Aquenzo Credibile quasi Credibile come cosa In realtà Comunque Sto abbaffato Mettendo avanti Ha senso di rappare No Trilly Secondo me Questo si piglia Secondo me salta lui ora Ha senso intanto No Trilly Allora Allora Ve l'ho detto Ve l'ho detto rega che era buono il clip da pigliare Vediamo se ora vinciamo Vediamo se ora la pulliamo la win È andata il nuovo Aquenzo È andata il nuovo Aquenzo Proprio lui Proprio lui Il nuovo Quenziantibus Cause I want you And I need you Vediamo A quello che toglie scudi Si lo so Però Madonna che hit di merda Zio però C'è da dire che potrebbe Ah siamo sopra infatti Ora C'è da dire che il cleaver hit Però Buona sta hit Molto bene Capi qui Mamma mia Qua eravamo sotto al 90 Prima E ora siamo sopra al 90 Molto bene Capi qua Dai Mamma mia qui Molto bene Fai il bravo Rimperius Per cortesia In chat Fai il bravo Dai bro Dimostra maturità Per cortesia Dai E Questa salta Vediamo se mi da qualche gemma questo Ci sta Le gemme Puglio questo piuttosto Questo lo piglio Molto buono questo Questo qua è solo un più un 34 8 Non è male Io le do due gemme qua Per sicurezza Pare che questo shot Ogni cosa Lo potremmo mettere anche davanti Il cleave secondo Ci sta Poi il resto lo do il cleave Secondo me è tanto Questo qua Sì ok Mi piace così Mi piace così La pirata 2 Però non c'ho più le gemme Per farlo diventare grosso Questo Il discorso è quello Non c'ho più le gemme Per farlo diventare big Il secondo pirata qua Quindi direi che è ok Giocarele in sto modo Perché mi scripto le romi negativo R'imperius ragazzi Perché Cioè Perché non sto giocando Perché quel maiale Fa un po' Troppo il furbetto Diciamo Guarda il cleave qua Merda Che stecca Che gli ho piazzato a questo Mamma mia Che primo posto Signori di qualità Primo posto di qualità Del thunder qui Che chiude a più 100 E passa anche oggi Eravamo partiti a 10.620 Qua Molto bene Grazie a tutti Grazie a tutti.